Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Post-SyberSomatch, adesso andiamo a vedere qualche deck Budget interessante, ultra tecnico, tattico Da puntare per ovviamente avere magari un mazzo che Trasciando qualcosa, qualcuno magari si aspettano in pochi E quindi andiamo a vederle Prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di Yugi Mi raccomando è importantissimo Per ordinare CyberSomatch, assi link, fantasia, storia in descrizione Con il codice affiliato ovviamente Per le carte singole, card trader zero Ovviamente sempre link in descrizione, con il codice affiliato Se vi iscriverete con il nostro link avrete anche 2 euro omaggio E per questi deck insomma 2 euro omaggio sono tipo 10 carte Se vuoi dire più o meno, bisogna vedere un pochino i prezzi Ma comunque sono abbastanza bassi Partiamo! Allora Samurai Super Pesante Vabbè questo qui era Lo stiamo dicendo da quando abbiamo visto gli primi spoiler OCG Quindi diciamo che sono mesi con Samurai Super Pesante E invece soffermo oltre Cioè da un sacco di tempo ho detto ragazzi Recuperatevi i supporti per il Samurai Super Pesante Che è veramente un deck che può dire tanto Le carte sono praticamente tutte comuni Tranne due super, il nostro effetto pendolo e il sincro E l'altro sincro ultra E il resto fattibilissimo Anche queste qui dovrebbero essere fattibilissime Quindi a manetta sul Samurai Super Pesante Counter Fairy con il nuovo supporto Perché fondamentalmente Counter Fairy si sta trasformando in un Counter Pendulum Che comunque non necessita delle Wombo Combo Pendulo Praticamente c'è questo nuovo supporto che ci aiuta con il Corno del Paradiso Che fondamentalmente vai a fare tante negate Con la nuova carta magia Che ci permette anche di pescare due attorno Insomma il mazzo diventa abbastanza interessante Perché anche con le combinazioni vecchie Come Artemis e Meltel Che spacca senza targettare Che può essere molto interessante Ariadna, Nanguil e tutto il resto Il mazzo riceve un upgrade molto interessante Rispetto a quello che prima Il mazzo riceve un upgrade molto molto interessante Quindi io occhio Nemurelia Anche questo mazzo Tutte comuni tranne la Super Che è appunto Alice in Wonderland praticamente Nel mondo dei sogni Mazzo che va a bandare tutto Mazzo che non necessita di extra deck Mazzo che potete andare a buildare anche con il Grand Magiu Nemurelia che può potenzialmente bandare Il terreno dell'avversario Senza che lui possa attivare cose in risposta E diventa interessante Ovviamente il livello 10 del mazzo d'archetipo Sono tutti facilmente vocaboli Basta avere la Nemurelia a scoperti l'extra deck Ti vuoi a bandare ogni volta Riesci a bandarti le cose tranquillamente Per attivare gli effetti Insomma è un mazzo che io punterei particolarmente E quindi Bella lì per Nemurelia Gold Pride Gold Pride potrebbe non essere così economicamente sano Però dipende Fondamentalmente le nuove carte sono molto interessanti Il secret potrebbe essere quella secret economica Un po' la Libro Mancer Quindi Ci può stare Forse la carta magia andrà a costare un pochino Però bisogna vedere Io non vedo Gold Pride come un mazzo così Expensive Diciamo così costoso Quindi Poi tutto lo sta Noi intanto lo diciamo Poi potrebbe salire come potrebbe scendere Quello dipende anche dai risultati Mazzo che Predilige essere mischiato con Punk Però Qualora insomma Si volesse fare una versione pura Per risparmiare di più Non sarebbe male Non sarebbe così performante Però Sempre di scheda potrebbe essere Per concludere Riprendiamo il grande e irreprensibile Monarca Perché Sempre una carta magia nuova Il Monarca che ti fa due vocazioni normali in più a turno Che ti pesca due carte a turno Che Potenzialmente dopo non ti può neanche negare L'evocazione normale Rimuovendo ovviamente la time dal cimitero E scartando un'altra E diventa pesante Anche perché poi usciranno i nuovi monarchi Da Dolis Nexus Fra qualche mese Però insomma Il mazzo comunque pesca tanto Già di per sé Fa le sue combo C'ha il suo pendolino Che comunque è un peschino a gradi Con tanto di tributo Insomma Monarch Interessante Interessante Perché poi andrà In futuro a tributare i mosti dell'avversario E a fare altre interruzioni Anche a turno dell'avversario Quindi Noi Intanto prendiamoci il mazzo Che comunque A tanto non sta Poi vedremo Perché comunque Anche con appunto Sta carta magia nuova Con i supporti nuovi Monarch Ogni tanto potrebbe fare Un qualcosa di sorprendente Non dico qualcosa di eccezionale Però potrebbe essere Molto interessante Detto questo ragazzi Quando mi sapete ovviamente Voi cosa state pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti